Con una lettera aperta ai parlamentari della provincia dell'Aquila, ai coordinatori della CSZ Will di Sulmona Alto Sangro, Augusto Di Giustino, Ernesto Deliseo e Marizio Sacchetta ricordano i risultati ottenuti dal Tribunale di Sulmona come rilevato da indagini condotte dal Sole 24 Ore. Una sveglia che suona in merito alle dichiarazioni del ministro Bonafede relative alla chiusura del Tribunale di Sulmona. Le indagini condotte dal quotidiano economico italiano più importante parla dell'efficienza del Tribunale Peligno che più di tutti è riuscito ad aggredire lo stock di contenzioso civile. Ma il Palazzo di Giustizia Sulmonese risulta essere anche al quinto posto sempre della stessa indagine sulla produttività realizzata questa volta tenendo conto sia della capacità di riduzione dei fascicoli pendenti 7% sia della durata dei processi 606 giorni ma anche della carenza di personale cioè degli organici dogati 0% e amministrativi 33% scoperti. In questa classifica prima è Giambolzano seguita da Rovereto, Novara, Lodi e dalla città di Sulmona. A fronte di tutto questo i coordinatori della CSZU di Sulmona e dell'Alto Sangro chiedono un incontro urgente ai parlamentari eletti nel territorio provinciale per far sì che si prosegua nella battaglia a difesa del Tribunale per mantenere la presenza degli uffici giudiziari nel territorio che in un periodo così difficile risulta essere ancora più importante per dimostrare che il presidio giuridico Peligno sia indispensabile per un vasto territorio come quello delle aree interne.